Va ad una buona vispesaro di misura il confronto tra matricole terribili. Prima sconfitta in campionato per il San Nicolò, che perde l'imbattibilità casalinga che durava dall'aprile 2010. La squadra del presidente Di Giovanni paga un brutto primo tempo e nella ripresa non riesce, nonostante gli sforzi, a recuperare il risultato. Nel San Nicolò dello squalificato calabrese la novità è la presenza dal primo minuto di Lalli, fresco di doppietta in quel di Trivento, recuperati Orta, Mottole e Villa, ma solo quest'ultimo è titolare. Vi spesano in campo con 3,94, uno di questi è il trequartista Ridolfi, che agisce alle spalle delle punte Bellucci e Zonghetti. Ed è proprio la squadra di mister Simone Pazzaglia a farsi preferire sotto il profilo del gioco. Buoni fraseggi, movimenti ben assimilati per la matricola marchigiana, che comunque non è particolarmente incisiva negli ultimi 16 metri. Il piattone di Bellucci non impensierisce Angelozzi, tanto meno il sinistro di Tonelli al dodicesimo. Ma è comunque la vista a fare la partita. Il San Nicolò non riesce a sviluppare il suo gioco. Al ventiquattresimo il cross di Paolo Antonio Perlalli viene sventato da Boinega. La punizione al trentaquattresimo del capitano Vissino Paoli, respinta alla bene meglio da Angelozzi, e il prologo al gol del vantaggio pesarese. Minuto trentotto, Zonghetti va al cross dalla sinistra. Casarese respinge dalle parti della corrente Giovanni Dominici. Il giovanissimo terzino classe 94 indovina l'angolo lontano con una conclusione di giustezza. Nulla da fare per Angelozzi. Prima dell'intervallo, Arse incorna la punizione di Villa, ma non inquadra la porta. Un'azione simile apre il secondo tempo. Il traversone di Di Paolo Antonio, il colpo di testa di Lalli. Al quarto, doppio cambio per il San Nicolò. Fuori Di Paolo Antonio e Clementoni, dentro Orta e Ferraioli. Ed ecco l'assetto a due punte. I nuovi si fanno subito apprezzare. Ferraioli dai 20 metri sorvola di poco la traversa. La vispesa era in meno sbarazzina del primo tempo, ma comunque pronta a ripartire con la velocità dei suoi avanti. Bellucci, l'undicesimo, lascia sul posto Bagnara. Sbaglia l'ultimo controllo. L'uscita di Angelozzi è tempestiva. Sul capovolgimento di fronte, Lalli ubriaca boinega, ma il suo appoggio non è sfruttato. Un giro di lancette dopo. La più ghiotta palla gol per il pari. La firma Mario Orta. Il bomber è decisamente sfortunato. Timbra il palo interno. E la palla non entra. Poi Villa serve Arse, che sbaglia sotto porta, ma l'azione era stata fermata per un fuorigioco del centrocampista San Nicolese. E' il momento più bello della gara. Quattordicesimo, Zonghetti elude l'offside dei padroni di casa, ma Angelozzi è ancora bravissimo e tiene i suoi a galla. Ventitresimo, Costantino appena entrato mette in mezzo un pallone interessante che Orta in torsione non riesce a monetizzare. E' l'ultima vera palla gol per i padroni di casa, che non riescono più ad insegnare l'estremo fuiera. Anzi, è la vista nel contropiede a farsi ancora pericolosa. O anche da piazzato, sempre con Paoli al trentaduesimo. Ancora reattivo Angelozzi. Chance anche per Petronio al trentottesimo, ma il risultato non cambia e la Vispessaro porta a casa l'intera posta. Sicuramente la squadra ha fatto una buona prestazione, sono contento di quello che i ragazzi hanno fatto oggi. Squadra giovane nel complesso, giovane anche negli under, 3-94. Esatto, siamo partiti addirittura con 3-94, la politica della società è questa, quindi non solo eravamo giovani, direi giovanissimi in tre giocatori su quattro, però direi che è stata una forza questa, perché tra l'altro il gol l'ha fatto Dominici, che è un ragazzino del 94. Siamo contenti di questo, siamo contenti chiaramente anche della vittoria. Il primo tempo l'abbiamo letteralmente regalata agli avversari, anche se debbo fare i complimenti a questa squadra, perché ho visto una squadra veramente tosta, che giocava un buon calcio. Noi purtroppo abbiamo perso, credo che erano due anni che non perdevamo più in casa, quindi ci dispiace per questa sconfitta, però credo che tutto sommato poi abbiamo disputato un ottimo secondo tempo, è il risultato più giusto forse del pareggio. Il palo di Orta è stato un palo clamoroso, perché era praticamente a portiere battuto, e niente, dobbiamo ripartire da questa sconfitta, perché prima o poi doveva arrivare, e cerchiamo di fare bene le prossime domeniche.